Ortona e lo stretto legame con l'Adriatico San Tommaso, la mitica figura di Leone Acciaiuoli, generoso navigatore al servizio della Serenissima nelle acque che un tempo si chiamavano proprio Golfo di Venezia, nel 1200 portò ad Ortona le reliquie di San Tommaso. Ad Acciaiuoli è dedicato il prestigioso istituto nautico che nel 2019 ha celebrato i suoi 100 anni di vita. Era il 6 febbraio 1919 quando il Consiglio Comunale approvò la delibera con cui si dava vita ad una scuola chiamata a formare uomini di mare preparati e competenti. Oggi il nautico è un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale che ha celebrato la ricorrenza con una lunga serie di appuntamenti nel culmine della giornata del planetario, iniziativa che ha luogo in contemporanea nei principali planetari italiani e ogni anno si svolge nella domenica precedente o seguente l'equinozio di primavera. Nell'occasione la scuola è stata aperta al pubblico. La giornata ha avuto come prologo il saluto di autorità politiche e militari e di tutti coloro che hanno segnato la storia del nautico, il dirigente scolastico Marcello Rosato. A scuola è tutto un brulicare di ragazzi, è tutto un brulicare di professori ed enti, a dimostrazione di come l'istituto nautico sia un istituto particolare che appartiene alla storia proprio personale di tutti gli ortonesi. Quanto interesse c'è attorno a questo istituto? Tanto. Io sono quattro anni che sono dirigente scolastico, il primo anno solo del nautico, a partire dal secondo anno c'è stato il dimensionamento con altri due istituti superiori quindi è diventato acciaiole naudi e io posso dire che c'è stato un'escalation di iscrizioni. Quindi questo è un dato oggettivo, significa che tante famiglie accettano la nostra offerta formativa. L'acciaiole rappresenta un insostituibile riferimento culturale e offre agli studenti un alto livello di preparazione scientifica e tecnologica attestato dal successo conseguito dagli allievi sia in campo universitario che in quello professionale. In una domenica speciale in molti sono stati coinvolti dall'entusiasmo collettivo di allievi e professori, alle prese con decine di laboratori e dimostrazioni pratiche. Sempre bello ammirare la volta celeste sotto la cupola del planetario. E poi carte nautiche, carteggi, abili mani che fanno nodi indispensabili per l'arte marinaresca, moderne e costose attrezzature come il simulatore, laboratori di chimica, i motori e la passione di tutti coloro che saranno gli addetti alle macchie. L'Istituto Nautico Acciaiuoli è davvero la compressione di conoscenze millenarie nel filo comune della passione dell'andare per mare. Alessandra, cosa significa essere capo planetario? Beh, significa innanzitutto saper organizzare delle persone, dei ragazzi, quindi istruire e insegnare ai ragazzi più piccoli ciò che a me hanno insegnato altri ragazzi in altre generazioni, quindi diciamo che questa è una tradizione del nautico che pian piano noi tramandiamo e cerchiamo di esporre in questa giornata del planetario. Stiamo imbarcando uno yacht di lunghezza 85 metri e in questo porto ci troviamo a New York, stiamo facendo l'ingresso nel porto di New York e stiamo cercando di entrare senza creare incidenti giustamente e in seguito proveremo anche l'attacco. Rispecchia quello che faremo poi in un futuro con il nostro lavoro e logicamente facciamo prima teoria e poi pratica giù in porto con la nostra nave scuola San Tommaso.